tre quattro cinque è stato qui a sbattersi a fare le immagini abbastanza diverse l'argete va lì già guardiamo le medaglie mentalis buberalis guardiamo! A presto! A presto! C'è qua qua che mai è... Oh. Ops. Ops. Ops! 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 Ops is stupid! Hmm. Looks like a test. There's probably a secret, more advanced route! What's that supposed to mean? You think you're more advanced than me, new kid? Sorry, what? I'm not stupid, you're stupid. The coach is stupid. The whole camp is stupid! That thing flying at you is stupid. What's flying at me? Woah! Bobby Zeltzer's foot, that's what! Tu stupido nuocchio! Oh! Hmm, no. Ok. Di sotto c'è qualcosa che mi raccogliamo. Questa è la sua. Ha assorbito la salute mentale positiva. Mantenere la tua salute mentale è importante perché se si esaurisci non potrai mantenere la tua proiezione astrale in questo mondo, in questa mente, e sarei ricacciato nel mondo reale. Ah, questo è il percorso segreto forse. Proviamo su un attimo che non... Faccio questo. Non è stato un attimo. Non è stato un attimo. Non è stato un attimo. Non c'è il tempo di stare qui quando sei morto! Ehm, percorso classificato? Oh, qual'è quello giusto? Teoria di là. Dobbiamo forse salire, non so. Andiamo prima ad andare a vedere qua, no? Tu hai abbastanza tempo per stare qui quando sei morto! Ah, non valgono di più questi, però. Ma c'hanno 21. Ehm... Mentalis Buberalis! Sii hanno l'arangolo, c'era? C'era? C'è un attacare? Qua si sta cercando di più non mi sono? C'è un attacare? C'è un attacare? C'è un attacare? eh però ci sono ok siamo su in cima in effetti però ci sono tutti quei dirigibili là qua però servono è la valice ma che cosa strana che ci serve sono collezionabili basta che ci serve e anche questo dà ok quindi qualsiasi cosa ecco qua mi sono scottato mi sto facendo niente l'epoca di brutal legend anche un altro gioco anche quello che non ho giocato è dove siamo arrivati ok ecco qua adesso vogliamo anche quei dirigibili non c'è le A vai facciamo un altro facciamo un altro vediamo anche ok ok io ho il team manca quello già però ma come fai bene oh 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 se ci sarebbero facili battute su cosa si sono fumati ma non ho fatto questo gioco è un atto di creatività non è facile capire c'è ancora uno scusate questo ma mi hanno fatto anche l'achievement per queste cose mi sa non c'è niente quindi l'unico altro vuoi essere non c'è niente passa qua sotto eh non hai previsto eh oh ma beh praticamente l'ha fatto per dare una motivazione al al non c'è ma Quack, come un moncone! Mentalis buberalis! Hey, slow down! If you pass me or Bobby, we'll make us look cool, and Bobby will pound you deaf! Bobby, can you hear me? Where are you? Don't leave me alone out here, Bobby. I'm frightened! I'm frightened! Watch those mines, kid! Hey, Dogen, what's wrong? I keep blowing up. You're like molasses going uphill in January! Cliff, follow me! I'll help you through the mines. Okay. Oh, bolsa. Hmm. Immagino che queste sono tutte. Oh, prima prendiamo una nuova. Ahahahah. Mentalis buberalis! Ah, che ho scherzato il salto! Penso che sia infinito, Bobby. Spero. Ok. Ah, c'è anche questo. Però... Puliamo dietro. Seguimi. Ah, c'è anche questo. Ah, c'è anche questo. Si, bravo a seguirmi, però... Non c'è anche una funzione. Magari segui in linea retta, non so. No, non c'è anche questo. Non posso farlo. No posso farlo! Non posso farlo! ma si può prendere la maniera per mano? non sembra oppure sono stato troppo indeciso, non sto prendendo qua nooo, non esplodere vabbè boh, forse non si può non lo so, mi viene il dubbio che non si possa questo cos'è tipo Mario? vabbè, salviamo piacce che non è quel dubbio che non si può salvare dà l'impressione che dopo un po' ohhhh ne ho che è veramente fiuso e non mi ha detto di prendere una scuola in Washington ha una scuola quando si tratta del Delaware? non mi ha detto di prendere una scuola non mi ha detto di prendere una scuola che si tratta di prendere una scuola che si tratta di prendere una scuola che si tratta di prendere una scuola prima si tratta di prendere una scuola c'è un climax a questa storia? non ho ancora parlato del gopher? non ho pensato di prendere una scuola non ho pensato di prendere una scuola non possiamo farlo sì, siamo non bene e il coach non apre la scuola fino a chi vede sì, sì, prendere una scuola sì, comunque non è così bisogna essere molto veloci cioè non essere tuttupante tipo ti seguiva ma... 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 non credo che... vediamo percorso a bersaglio il punto necessario è 20 tempo di disposizione 60 secondi non ricevi alcun punto quando colpisci dai bersagli amici punch hurray punch 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 hurray punch 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 Punx, 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 hurray! è che si perde l'animazione Questa c'era una volta solo, altrimenti ci ferma troppo tempo. L'apertura è cancello, immaginavo. Ma cos'è? La maggior parte del progetto di segreti sembrava. Beh, che era davide, il progetto di segreti sembrava. Questa è una punto di freccia psichica. La sua energia grezza contribuirà in piccole dosi al valore delle tue punte di freccia, ma scoprirai presto che si accumulano in fretta. L'orgoglio di Oleande. Ma in generale è prussiano, no? Quello del metto lì non vuole dei prussiani. Si sparano... Cos'è? No, sono pistole forse. Cavalca le bombe. Aiuta i ragazzini feriti. E poi dentro il capitano supremo. Beh, guarda questo ricordo nuovamente, ok. Per una luna nasconda perché... È un eroe, eh. Qua, come si fa? Tengo qua. Questo tipetto può teletrasportarti in qualsiasi zona precedente visitata nel mondo mentale in cui ti trovi. Vai... Scegli la destinazione e vai. Se mi faceva tornare da... Ah no, ok, devo far forza prenderlo. No, ok, no. Ah. In realtà mi devo tenere la sua strada. Ah, l'hai buttato giù? Ok, mi sposto di qua. Quindi poi io buttato giù qua. C'è già l'interno questo. Cioè, c'era l'interno questo? Perché ci sembrano i Rabbits. Ah no. ok, se ne era uno Adesso, ok, qua, ancora qui, la prospettiva è cambiata carino, qui c'è qualcosa, ah, qua, 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 qua ok 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 ah non è così si non è rimasto ok sembra una cosa di Rayman se non sbaglio che ci sono da salvare Sì, proviamo a vedere Per vedere la ragnatele lo spaccio vende quest'utile attrezzo per rimuovere la ragnatele mentale moleste. Compra oggi il tuo aspira ragnatele. Lo facciamo? Aspetta. Dai, sali. Ok. No! 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 All'altro leggevo che il difetto anche del 2 è un po' il platforming. E' un po' molto bello. Vediamo che ci sono delle cose che sono appunto un po' ignosa forse. No! 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 Non possiamo farlo, non si riesce lo stesso. Allora aspettiamo. Vabbè, non so che... pretende di prendere tutto. E' pieno, c'è un'altra... Ancela anche la... Ma forse quella dell'estetica. Ah, no, non da qua. Per cambiare la rotaia. Controllo la velocità. No, ho capito che non si controlla la velocità. No, hai abbastanza di tempo per rimanere quando sei morto. No, 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 no. Immaginamene se ci schiamantavamo o cadevamo. No, se ne è il tetasporto, in effetti si. Che come c'è un palloncino. Ma potremmo rifare quella parte là. Vabbè. Io non sono affetto in maniera di collezionismo. E i giochi. Fatto bene. Un'ultima ma un'ultima ma un'ultima. Lo che hai bisogno di farlo è... Ah, mi gioca tutto così. Ah, mi chiediamo. E basta. No. C'è solo questo che è così. Lo vedremo. Adesso che scivoliamo giù. Dopo un certo grado, no? Credo. Quindi... Non sperimentiamo... No, forse no. Qui c'è qualcosa altro. Ehm. È che si savoir qua finiriamo... Zona. Ciao? Ciao? Penso che sono presto. Guarda lì, figlio! Che cosa in Sam Hill pensi che stai facendo là? Stavo cercando un po' fuori. Oh, sorry about that. Didn't think you'd get to the end so fast. Dang, I didn't think you'd get to the end at all. You surprised me out there, kid. Here, you've earned this. Your first Psychonaut Merit Badge. E' il numero di livelli, quelli? But I'm always glad to see a soldier come back from the field alive. Now, if you'll excuse me, I gotta go back in. I left some good men back there. I'm always glad to see you. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.